Torna a salire la curva dei contagi da coronavirus in Puglia. Quasi 950 in più quelli accertati rispetto a 24 ore fa, mentre si registra un nuovo record di tamponi effettuati in un solo giorno, 7.728. I dati sono stati diramati dal consueto bollettino epidemiologico del Dipartimento della Salute che segnala per la giornata di oggi, venerdì 6 novembre, 946 nuovi casi positivi che portano a 23.881 il numero dei contagi pugliesi dall'inizio dell'emergenza covid. Picco di positivi nella provincia di Foggia con 291 nuovi casi, seguita da quella di Bari con 259 e che resta la più colpita quanto a diffusione del virus. 109 sono invece gli infetti rilevati oggi nel territorio di Brindisi, 106 nell'Eccese e 83 nella provincia di Taranto. Nella BAT sono stati accertati invece 97 nuovi casi di positività che portano la somma dei contagi nella sesta provincia da quando è cominciata la pandemia a quota 2.579. Tre casi si riferiscono infine a residenti fuori regione e altri due, di provincia non nota, sono stati riclassificati e attribuiti. Si aggrava purtroppo anche il bilancio dei morti per cause legate al coronavirus, altri 13 nelle ultime 24 ore. Sette decessi sono stati registrati nel Foggiano e due rispettivamente nelle province di Bari, Brindisi e Taranto. Il totale delle vittime pugliesi tocca a quota 802. Poco rassicuranti anche gli ultimi dati sui ricoveri. Salgono a 909 le persone al momento in ospedale, 42 più di ieri, di cui 122 nei reparti di terapia intensiva. Gli altri 14.720 pugliesi attualmente positivi si trovano invece in isolamento domiciliare. Notizia confortante quella relativa ai pazienti che hanno sconfitto la malattia. Ad oggi i guariti in Puglia sono 7.450, 127 in più rispetto ad un giorno fa.